ragazzi ok si vede un po strani bianco e nero stavo giocando un po con la telecamera per con la videocamera per vedere cosa si poteva fare di particolare questo è il classico video che vedrete in un sacco di canali degli auguri di natale di fine anno nuovo evviva di fine anno nuovo questo è bello vi auguro una buona fine 2020 ok allora niente a parte di scherzi si chiudono per un attimo le pubblicazioni sul canale potrebbe darsi che da qui alla fine dell'anno quindi per i prossimi restanti otto giorni se la matematica non mi inganna praticamente sette giorni ci saranno delle pubblicazioni ma riguarderanno come nell'ultimo periodo solo a civilization 6 la partita che stiamo facendo con un saladino non credo che porterò nient'altro perché dall'inizio del prossimo anno cercherò di dare nuovamente un nuovo non dico un nuovo senso al canale ma cercherò di vedere se l'idea che mente in testa da qualche tempo ormai di evolvere il canale verso altro un altro tipo di contenuto sempre ovviamente parleremo di videogiochi il nome del canale non cambierà quindi rimarrà sempre quello magari facendo un cambio un minimo cambio di registro potranno esserci delle variazioni sono comunque molto contento per la serie di sid mayer civilization 6 che sta andando comunque molto meglio delle altre serie che ho fatto del sul canale state aumentando piano piano una volta al giorno c'è sempre un iscritto e sono abbastanza contento di questa cosa e diciamo gli ultimi sviluppi mi stanno portando mi hanno portato a confermare l'idea che ho in testa detto questo effettivamente vi faccio gli auguri di passare felici festività sia chi crede chi non crede comunque si rilasserà per quanto possibile a casa vi ricordo mi ricordo molto importante che su twitch invece andranno avanti andando avanti le trasmissioni in quel caso perché comunque già stasera mi troverete online nove e mezza 10 10 e mezza chi lo può sapere lo potete sapere se andate sulla mia pagina twitch il link è in descrizione sotto quasi tutti gli ultimi video degli ultimi due mesi e ha ovviamente sotto anche questo video e andrete di andare di mettere il seguire un canale c'è un un cuoricino e lasciare ovviamente anche le notificative li allora non ci sono dubbi eventualmente se questo è troppo a sbattimento c'è anche il canale telegram dove comunico quando vado in live e quindi uno l'altro è consigliabile tutte e due ovviamente detto questo li andremo avanti lì ci sarà la possibilità volendo di anche abbonarsi al canale gratuitamente se avete twitch prime quindi amazon prime ovviamente quindi collegati due account twitch e amazon se volete supportare il mio lavoro o meglio la mia idea la la mia filosofia di come portare dei videogiochi in live quindi detto questo io vi saluto non sono chiuse le serie saluto su football manager e keiser slaten che aveva fatto due episodi e basta mi è mancato totalmente il tempo in realtà è quella su europa universali squadro quella sulla sulla con la svezia probabilmente cambierò il format ci devo ancora pensare mi prenderò un po di tempo tanto ripetono non ci corre dietro nessuno se devo correre dietro la visualizzazione devo cambiare metodo e quindi queste due queste due serie sicuramente non non andranno avere un impatto comunque detto questo vi ho già rubato fin troppo tempo ricordo stasera probabilmente in live su twitch lasciate un bel follow anche lì lì ci sarà la possibilità di fare donazioni e di lasciare anche l'abbonamento al canale se lo volete lo vorrete e ovviamente di lasciare follow anche qua quindi l'iscrizione per youtube e quant'altro buon natale buon inizio fine anno buon inizio anno passate delle sereni sereni festività e rilassatevi quanto per più possibile e ci vediamo nel prossimo video ragazzi ciao